Una buona giornata dalla redazione di Florence Multimedia in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Roma, due chilometri di coda per un veicolo in avaria segnalato tra Valdarno e Incise Reggello. Per traffico intenso rallentamenti tra Barberino del Mugello e Calenzano. Sul raccordo Siena-Firenze scambio di carreggiata tra Firenze in Pruneta e San Casciano. Per quanto riguarda la viabilità cittadina a Firenze in Viale Europa per montaggio di un pannello a messaggio variabile, restringimento di carreggiata. Infine i traghetti a causa delle avverse condizioni meteo e collegamenti con le isole potrebbero subire ritardi o cancellazioni. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Buon viaggio!